Salve ragazze, allora è arrivata la giacca by semi dress avevo fatto due ordini, la prima l'avevo già fatta vedere tramite un video e nulla, mi è andata male, la giacca è arrivata in questa busta qui però nulla, ho rischiato, le taglie sono giuste nel senso che quello che era riportato nella scheda informativa del prodotto corrisponde alla realtà però nulla, io ho voluto rischiare e quindi nonostante i 40 cm di spalla da capo a capo non mi sono tirata indietro e ci ho rischiato al contrario dell'altra giacca che misurava 42 cm purtroppo questa giacca per la forma delle spalline non è portabile in quanto uno è più piccola rispetto alla norma e due il tessuto non è per niente elastico quindi essendo un modello che o cade bene o non va bene purtroppo ho rischiato e nulla, la vendo se qualcuna è interessata io la posso mettere in vendita specifico che sono una taglia 46-48 ho una quarta di seno quindi considerando come va a me, come calza a me insomma penso che potrebbe andare bene ad una più minuta di busto e di spalle e nulla, la giacca dietro non presenta nessuna apertura e quindi è tutta chiusa, è abbastanza lunga e ha questo colletto un po' lucido bisogna ovviamente stirarla bene bene perché come è arrivata è arrivata in quel pacchettino ha i bottoncini qui sul polso e un unico bottone in vita ha una bella fodera, molto ben strutturata e nulla, è una giacca strutturata se si sbaglia la misura ahimè non la si può indossare al contrario di quella rosa che invece la posso la uso tranquillamente anche perché, attenzione le descrizioni dei capi erano reali cioè sono reali sono stata io ad essere un po' impulsiva nella scelta della giacca perché la desideravo, la desidero ancora visto che dopo tre mesi di stop indogana insomma tutti gli annessi e connessi il pacco è arrivato veramente molto tardi rispetto alla norma e vabbò mi è andata male me la sono giocata ma non mi è andata male quindi chiunque volesse questa giacca volesse informazioni in merito ovviamente non guardatela come sta su di me perché è piccola però su mia madre calza bene però lei non ama questo genere di cose strutturate quindi chiunque sia interessato può contattarmi sia nella posta del canale che nella mail che vi metterò giù nel box informazione spero che questo video vi sia stato d'aiuto ecco questo per ribadire che le taglie le descrizioni dei prodotti presenti sul sito di Semidress sono descrizioni reali quindi quando c'è scritto centimetri sono reali certamente la differenza sta anche nell'elasticità del capo del tessuto che credo sia anch'essa specificata la qualità del tessuto utilizzato per la produzione del capo ma comunque tutto sommato rispecchia quello che io avevo letto un paio di mesi fa nell'ordinare tale blazer che ahimè non ci sta un caro saluto a tutte spero che questo video possa esservi utile ciao grazie grazie grazie